185, 122, 5540, 307... Ciao! No, no, non sto dando i numeri, eh! Sto solo elencando le azioni che hanno sostenuto già nella fase 1 i 350 volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Arezzo. Cinemi Cinema ha sostegno del Comitato Aretino della Croce Rossa Italiana e del suo impegno per le famiglie in difficoltà. È infatti partita la campagna dell'Associazione Culturale con un testimonial d'eccezione, l'attore Daniele Marmi Aretino Doc. Ve li ripeto? 307 servizi della gentilezza, distribuito 149 pacchi alimentari e oltre 5.000 mascherine, risposto a 122 richieste pronto spesa e 185 di pronto farmaco, assistito più di 400 persone e 78 in Covid più. Incredibile, vero? Beh, adesso sì, direte voi, siamo nella fase 2, tutti possono uscire, possono fare quello che vogliono, è finita! No, non è finita. Non ancora. Ed è per questo che ho deciso di sostenere l'importante campagna di raccolta fondi che l'Associazione Culturale Aretina Cinemi Cinema ha ideato a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Arezzo e dei suoi volontari che assistono le nostre famiglie in difficoltà. Come fare? Niente di più goloso. Di più semplice. Basta ordinare uno o più kit del cioccolato vestri dal valore di 10 o 15 euro telefonando o scrivendo al numero 324 7876 224, anche su WhatsApp. Il cioccolato verrà consegnato a casa vostra nel rispetto delle regole anti-Covid e in perfetta sicurezza. Il ricavato delle donazioni, esclusi i costi di produzione, verrà devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana. Eh sì, beh, direi che è un grosso sacrificio, eh? No, intendo aiutare mangiando. Io credo di aver aiutato anche troppo. Da oggi la solidarietà ha il gusto del cioccolato. Prendiamoci gusto.